Perché questa registrazione? Per dire qualche idea sulla cosa di paterno, perché non parlare di questa attività? La famiglia si parla di famiglie. Molti di noi si occupano di adolescenti e oggi gli adolescenti se ne dicono di ogni, a volte i poverini sono anche un po' distrattati e forse dobbiamo comprendere la complessità degli adolescenti e qua c'è un adolescente. Si parla di relazioni, si parla di disagio, si parla di sofferenza. Un altro termine che torna sempre ricorrente è quello di violenza. Io credo che noi dobbiamo interrogarci come clinici. Allora c'è un percorso che deve fare la giurisprudenza, che deve fare la legalità, che deve fare la pulizia, che è un aspetto. C'è un altro aspetto che noi come responsabili della cura e mi auguro ancora di più della prevenzione, della cura delle persone, dobbiamo un po' comprendere da dove arriva questo diragare. Ci occupiamo di relazioni e non soggiungo anche questo perché prima ci occupiamo di relazioni, ma qui c'è anche un altro sistema che è quello di comunicazione, che comunica quello che sta accadendo e a volte rischia di linearizzarlo. Parlavo di comunicazione perché ho incontrato in questi ultimi giorni delle famiglie preoccupate perché guardano gli adolescenti che hanno di fianco e dicono ma davvero uno all'improvviso può impazzire così e quindi io guardo mio figlio e lasciamo delle famiglie che a volte già sono disarmate ancora più disarmate. Io so una cosa, due cose, volevo partire con due cose che lancio come provocazione. Uno è l'insegnamento di check-in, quando si parla di famiglie perfette io penso a check-in che ci dice l'idea di perfezione contiene in sei germi di autodistruzione, non esiste la perfezione, ma dobbiamo capire come funzionano i sistemi e qual è la complessità che ci sta dietro. Non per questa situazione ma per aiutare tanti altri che forse sono nella stessa situazione e non arriviamo aiutati. Perché quando arrivano in terapia già un pezzo della strada è fatto, ma noi dovremmo poter arrivare prima. L'altra idea è quella di doppio vincolo. Io ho pensato tanto all'idea di doppio vincolo di Batson, no? Batson ci ha insegnato che il disagio psichico nasce da un sistema di comunicazione, di relazione che fa cortocircuito, doppio vincolo, da cui tu non puoi uscire. E io mi sono chiesta, può essere, oltre la psicosi, la schizofria, che alcune forme di violenza siano dei tentativi di uscire e i doppio vincoli non si vedono. Non li vede l'occhio inesperto, l'occhio del vicino, l'occhio... E allora quello a cui mi interrogo è come possiamo riflettere in senso clinico, come sostenere le famiglie che osservano tutte queste, gli adolescenti, le famiglie che non sono gestite, gli adolescenti e come possiamo complessificare queste letture. Perché se no ci perdiamo, ci perdiamo solo nella cosa. Parto da qua, appunto. Mi viene in mente, scusa, a me viene in mente sempre questa cosa qui del giornale, la ricostruzione giornalistica, eccetera, che va verso, come dire, sempre la semplificazione, la banalizzazione, la trivializzazione del fatto. Noi come esperti di follia, oltre che di famiglie, sappiamo che vista da vicina la follia è molto più spiegabile e comprensibile di quanto non appare ad una lettura distante, fugace o, come dire, parziale. Ecco, sappiamo ad esempio che molto spesso l'evento psicotico è un tentativo del soggetto di riaggiustare qualcosa. Questo è il primo, la prima cosa. L'altra parte da alcuni dati. Allora, il fondo del ministero degli indenni dice che ci sono stati 88 omicidi dall'inizio dell'anno. Sempre il fondo del ministero degli indenni dice che il 50% di questi sono avvenuti in famiglia. Quindi, probabilmente, la famiglia è un luogo dove si sta particolarmente soffrendo in questo momento. C'era più sofferenza prima, ci sarà meno sofferenza domani. Io questo non lo so, però io partirei un po' prima anche da questa considerazione. Umberta. Io voglio allargare il gioco. Credo che facciamo, siamo in una cultura, a me è piaciuto molto, c'è il titolo di Ingiardi, che diceva ci vuole silenzio, non dobbiamo lavorare su troppe, troppe ipotesi. E credo che silenzio non vuol dire silenziare la voce dei studenti, o dei ragazzi, ma avere la possibilità di ascoltarli. Mi viene in mente che la scuola non ascolta, che abbiamo un governo che non ha permesso che ci fossero i corsi sul benessere delle relazioni o il benessere sessuale e sentimentale. E' una cosa gravissima, perché era un posto dove si poteva discutere insieme di cosa vuol dire relazioni, cosa vuol dire bene, cosa vuol dire male. Quindi io allargherei alla scuola, allargherei sicuramente al contesto e alla cultura di questo momento, in cui c'è una ricerca di perfezione, per cui essere una famiglia perfetta al compleanno di papà è meglio che avere un figlio imbronciato. E quindi c'è un obbligo a performare, un obbligo morale non esplicitato, a performare in un certo modo. Vorrei insistere sulla distanza tra i ragazzi e i genitori e forse anche dobbiamo parlare dei mezzi del telematico, del virtuale, che permette di entrare in dei modi e rimanere dentro al proprio mondo, senza falsificare la propria realtà. Fronto con l'altro. Umberta, colgo questo tu allargare perché dovevo assolutamente in testa anch'io. Allargare è un contesto che non vede. No, tu non ripete, noi facciamo i clinici ma dobbiamo uscire dalle nostre stanze di terapia, perché qui nessuno ha formulato una domanda e io dico se quando le persone arrivano a formulare una domanda significa che sono già un pezzettino di strada fatto. Allora, il senso di responsabilità civico che mi viene da dire quanto noi siamo in grado di formare, di pensare un sistema di tutela che viene prima. Gli insegnanti non hanno visto, forse non hanno gli strumenti, quanto possiamo pensare a delle strategie, delle modalità che permettano di vedere, di aiutare le famiglie e i singoli a vedere la sofferenza. Io oggi sono qui a fare una lezione sull'affido familiare e una delle cose su cui lavora, l'importanza che il sistema di tutela è fatto dal sistema di cittadini, dal sistema di operatori consapevoli che sanno cosa devono guardare. Sono d'accordo con te, abbiamo dei ragazzi che stanno male, delle famiglie dentro le quali si sta male ma che poi bisogna aderire a un modello di perfezione. Sui social sono tutti perfetti e quando tu vedi tutti perfetti e tu non ti senti perfetto non pensi che anche gli altri mettono immagini di imperfezione che non corrispondono alla realtà, pensi che gli altri siano realmente così e tu non sei così. C'è anche, io aggiungo, io non credo che, dobbiamo anche fare attenzione, io sento a volte l'attribuzione di responsabilità è data ai social, io credo che i social, la televisione, questo sono dei trigger, sono delle micce che entrano in un contesto dove il malessere è più ampio. Faccio una battuta, faccio una battuta poco simpatica, nel senso, un'osservazione di un contesto familiare, l'altra sera ho detto basta, io dentro questa storia mi ha colpito, non voglio vedere nulla che parli di violenza e ho girato tutti i canali, in uno accoltellavano, nell'altro c'era il telegiornale che, dico una cosa un po', che a volte forse entra troppo nei dettagli, no? E allora dico, quanti ragazzi, adulti, stanno male e li offriamo? Quello offre semplicemente un'idea, no? Io non so come uscire e dire, guarda, è già impacchettata, no? Ma non è quella la causa, quella è dove si ripercuote la solitudine. E allora l'interrogarsi, oggi forse qui ragioniamo più in senso teorico, appunto aiutare le persone a pensare che si allargano. Queste cose accadono dentro il dolore, non accadono da oggi o domani. Tutta la storia della psichiatria e della psicologia ci dice, il disagio psichico non nasce dal nulla, no? Non ti svegli il giorno prima, stavi bene, il giorno matto. Non esiste erratus, per questo sia chiarissimo. Eh? E non esiste erratus, deve essere erratus. Sì, sì, perché sennò a certo punto viviamo nel terrore, no? E questi ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati, vengono visti, rischiano di essere ancora di più allontanati, no? Oddio, quale mostro potrebbe venire fuori da questo ragazzo oggi? Invece sono ragazzi che hanno bisogno di aiuto. Io me ne sono occupata tanto, se dopo il covid ho sempre pensato che sono stati un po' messi in panchina, che forse questo sia un modo in cui stanno, ci guardano e ci dicono, ma voi adulti cosa state facendo? In che modo ci aiutate? In che modo li stiamo aiutando a leggere quello che sta accadendo? Ma guarda, sono trentacinque anni che incontro ragazzi e bambini. Eh ragazzi, ecco, non ragazze, ragazzi, tra l'altro, di questi ottantotto omicidi, eccetera, eccetera, di questi numeri che dicevo prima, la quasi totalità riguarda il genere maschile, sono sempre maschietti, e l'altra faccenda riguardava l'idea a proposito dei social, dei social, dell'idea di perfezione e anche dei videogiochi e dei film che vengono proposti. Ne parlavo ieri proprio con una signora che è venuta, insomma, c'è un bambino che ha una crisi di aggressività, eccetera. E a certo punto gli ho detto, beh, in effetti, perché lei ha detto, io ho spento la televisione, a un certo punto, perché vedo che dovunque giravo, ecco, c'erano sempre immagini lì di assassini, di guerra, eccetera. Ma io ho detto, ma in effetti è proprio, è proprio così. Tra l'altro, ci sono sempre i bisogni di guerra, di battaglie, tantissimi film vengono fatti su questo e ci sono pochi, come dire, pochissimi film sulla pace, pochissimi film sull'amore. L'amore come dispositivo di generosità e di generatività. Esiste anche l'amore del perdono, di cui abbiamo parlato prima, facendo lezioni. E quindi c'è poca, come dire, c'è poca letteratura su questi argomenti, c'è poca espredizione, c'è poca riflessione, c'è poco coinvolgimento, anche nei servizi scolastici, se vogliamo anche ad altri, a fornire ai ragazzi degli strumenti di riparazione, perché sembra che la dimensione sia sempre attacco-fuga, la dimensione, per esempio, del perdono, la dimensione della restituzione, la dimensione della giustizia riparativa e di tutte queste cose qui, sono dimensioni che vengono poche o poco praticate. Io poi ritengo anche che sia anche un problema di tipo storico, geopolitico. Noi stiamo attraversando un momento, se vogliamo allargare il contesto, particolare, ci sono delle guerre, non è che le cose vanno bellissimo sul fronte generale. E noi sappiamo che in un certo qual modo le varie faccende hanno delle riverberazioni, eccetera. Io quando incontro i ragazzini, gli adolescenti, anche per come si rettono, per quello che è il loro comportamento non verbale, eccetera, riflettendo sempre a quest'idea che ogni civiltà tende in un certo qual modo, nella nuova generazione, a replicarsi. E quindi, quando vedo i ragazzi, io stessi, vedo guerrieri, non vedo che noi stiamo replicando delle generazioni che abbiamo accorto. Posso? Io volevo dire due cose su questo. Sono d'accordo con te, Enzo, che si è perso il sociale in questo mondo intermoderno. E essendosi perso il sociale, ognuno è un'isola singola, una sua isoletta, un simbolo con una sua isolosità. E essendosi perso il sociale, non c'è uno sguardo collettivo su quello che sta succedendo. Per cui non ci si accorge, per esempio, che questo ragazzo sta male, che non se ne è accorto nessuno, di picco età. Voi stavate un certo picco età, in un gruppo sportivo, avete parlato di scuola, avete parlato di territori, avete parlato di biondata di cucina, abbiamo parlato di tanti assistenti che potevano accorgerci, che non ci siamo accorsi. Allora, io volevo dire due cose su questo. Uno, interessante che siamo soprattutto maschi, a me arriva in terapia, uomini che non decodificano le loro emozioni, totalmente incapaci di decodificare le loro emozioni. Le gemine, attraverso la loro propensione all'amore romantico, imparano un alfabeto delle emozioni, un pochino meglio delle emozioni. Però è gravissimo a questo fatto di non decodificare. La seconda cosa che volevo dire, e forse era anche, c'è una alessitmia sociale, trasversale, per cui le emozioni non vengono prese in considerazione, mentre le famiglie che preferiscono essere perfette e apparire perfette che andare a indagare cosa succede dentro. E dalla scuola, che non ha rimandato l'indagare, ha tutto il sociale in cui è più importante per formare, io direi, io parlerei proprio di una, uno, di una lissiteria sociale condivisa e di una condizione sociale condivisa, per cui adeguarsi alla perfezione è meglio che non andare a vedere, aprire le roglie. Ma vorrei mettere un attimo, e poi finito, e poi mi piacerebbe anche aprire a loro. C'è un altro aspetto. Noi siamo, ci è successo, che abbiamo scotomizzato il concetto di morte. Noi ogni giorno vediamo attraverso i filmati, un po' quello che dicevi anche te, una quantità di morte altissima. Cioè, saremo sottoposti a un centenario di morte al giorno, tra il film, nei telegiornali, nel apriamo giornale, in tutto quello che succede. Quindi, il concetto di morte, che come concetto di morte propria è il famiglio, come concetto di morte in generale, invece, è piaccato un concetto che si può comprare da tantiere, cioè abusato, ma su cui la nostra tolleranza in generale si è morta basata. Ma ne abbiamo più paura. E non solo non ne abbiamo più paura, ma è diventato in qualche modo reversibile. Io credo a un concetto di morte reversibile. cosa interviene? Interviene che lo stesso attore che in una serie muore, in un'altra serie, è diventato in generale. Quindi, i ragazzi non hanno un concetto di morte molto spesso, hanno un concetto di morte molto quotidiana. È un gioco, non è una cosa seria. È una cosa che ci sono a sue parti e che rischia di... e che i bambini piccoli, questo è un concetto di bambini piccoli, che muoio ma poi risolto. Ma io lo vedo che ce l'hanno anche degli adolescenti. Cioè, quello che vedo, per esempio, il mio allievo, il mio paziente, il cliente, un giorno mi diceva e ora mi ammazzo. E gli dico, o poi? Ma quale il libro? E io gli ho detto, scusate, stai dicendo una stronzata? Aveva, che non diceva. No, quale il libro? Chissà. Sarò in un altro mondo. Ma il suo quale il libro? Poi ci ha pensato anche lui. E io gli ho detto, ma stai dicendo una stronzata? E lui dice, se sei morto sei morto. Noi come terapeuti sappiamo e conosciamo l'importanza che ha per la mente l'utilizzo del linguaggio, l'utilizzo di alcune parole. Per questo evento nello specifico è stata stata la parola strage. Scusami. Non è una strage. Perché strage è altra cosa. Prima tu parlavi del genocidio del ruanda. Un milione di persone. La strage è quella che sta accadendo rispetto ai migranti che morono in mezzo al mare. Tecnicamente quello che è accaduto è il pluricumicidio. Quindi io avvertire, e anche nel linguaggio tra i ragazzi, a volte adesso vado lì, faccio una strage. Ecco, l'utilizzo del linguaggio è un utilizzo straordinariamente tecnico. Posso, aggiungo anche un'altra cosa, poi se mai apriamo. A me viene più in mente la parola teatrale, invece, che questa è una tragedia. Questa è una tragedia. È una tragedia perché tutti sono vittime qui. Poi la legge, torno a ripetere a fare il suo percorso, ma qua sono tutte vittime. Questa è una tragedia. E mi ritrovo in quello che diceva Umberta. Mi veniva in mente un film dove i personaggi hanno un numero di vite che possono giocare, quindi poi vengono mangiati dai più improbabili personaggi e poi risuscitano. Torno su due cose. Su una cosa che ha detto Umberta e poi volevo aggiungerne un'ultima sui ragazzi, sui adolescenti. Umberta diceva sono più i maschi, no? Io non lo so. Probabilmente ci sono delle forme diverse di espressione del disagio e probabilmente questa, che spesso viene poi definita come violenza, è più tipica dei maschi. Io mi interrogavo, per esempio, e queste forme dicevo prima il doppio vincolo, no? Devo aderire a una perfezione che non c'è ma non posso uscire e quella forse a volte il maschile ha un canale violento che può essere etero o autodiretto, no? Mi verrebbe interrogarmi anche su tutti quei casi di autodirezione della violenza che porta poi al suicidio, come dicevi tu, no? Probabilmente dovrebbe anche valutare come invece nei ragazzi si manifesta in modo nuovo. Io volevo condividere con voi un'immagine che qualcuno mi ha già seguito usare, no? Parlando degli adolescenti, io un po' di tempo fa avevo detto che gli adolescenti sono di oggi, come dicevi, sono d'accordo col contesto culturale, sono come delle Ferrari senza freni chiusi in garage. E vi spiego perché. Adesso uso un'espressione che a Umberta non piace. Dico, quando si parla di cervello noi parliamo di mente che è più complessa del cervello. Però gli adolescenti sono fatti, predisposti, programmati all'azione. Nel senso che lo sviluppo psichico, cognitivo e emotivo dei ragazzi le prepara a non avere una propensione al rischio. Perché, qui parlo di cervello nel senso, se uno, se fosse qui chi è più esperto di cervello dice, il lobo frontale è meno sviluppato, ma sono pronti all'azione. Perché questa è una cosa evoluzionistica, legata all'evoluzione. L'adolescente è pronto all'azione, a cambiare il mondo, a fare delle cose, senza troppi freni che hanno più il mondo degli adulti. Però c'è un contesto culturale. Gli adolescenti funzionano ancora così, ma oggi gli adolescenti non è che possono fare tanto nel mondo. Li critichiamo che non fanno niente, che siano sdraiati sul divano, ma in realtà una volta si pensa ai grandi pensatori, a trent'anni, a vent'anni avevano già fatto un sacco di opere. Oggi bisogna finire la scuola, bisogna aspettare una serie di cose, ed è giusto magari aspettare. Ma nel senso che un sistema sociale che è diventato complesso richiede a un piccolo dell'essere umano di essere molto più preparato e molto più grande per gestire questa complessità. Però loro hanno questo impulso all'azione e li mettiamo in garage. Li mettiamo in garage, però li dotiamo di tutta una serie, sono dotati di tutta una serie di aggeggi che fanno parte dell'odio, nonostante della tecnologia, di tutta una serie di cose, dove poi sfruttano questo loro bisogno all'azione che si traduce in qualche altra parte. Non sto generalizzando, sto dicendo che poi in queste situazioni dove c'è una sofferenza abbiamo dei ragazzi, i ragazzi non sono tutti sofferenzi, gli adolescenti non sono tutti narcisisti, gli adolescenti non sono tutti dei fannulloni, gli adolescenti non sono tutti dei violenti, perché sennò rischiamo a me questa cosa un po' a volte mi fa arrabbiare, no? Quando manifestano questi canali, queste forme, ci stanno comunicando qualcosa, ci stanno dicendo c'è qualcosa che non funziona, a volte non funziona il mio sistema diretto. E nessuno se ne è accorto, è questo il dramma, ma non se ne è accorto, perché lui è stato così bravo a mascherare di perfezione e aver timore nel dire sto male, o magari qualcuno l'ha banalizzato, o magari qualcuno l'ha visto, oppure c'è un sistema sociale di adulti che non ha le lenti per vederlo. E allora ci devono interrogare come creare questo sistema di adulto. No. Perché abbiamo per scontato che nessuno si ne accorta. Ma invece come lei dice tu, forse non andando alle mette, ma anche gli strumenti. Forse la scuola, per favore di aver visto qualcosa, ha provato a comunicare i genitori, quindi vogliono fare altre altre. E gli insegnanti non prendono gli strumenti, non prendono la parola di assicurare le possibilità di fare così un'assimilazione oppure a mandare un professore o un privato, hanno preferito di rimanere l'incidenza. Ma se abbiamo un sistema in cui hai paura di segnalare quello che vedi, è un sistema malato, eh? Sì. 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 È interessante, perché un'altra delle caratteristiche della follia e dell'imponderabilità eccetera è che succede sempre altrove. Invece le cose si succedono proprio fuori dal lucio della nostra piccola. Cosa dice il compagno? Il compagno dice una cosa molto interessante, dice questo mio compagno era un ragazzo un po' chiuso, ce ne eravamo accorti tutti, lo sapevamo come era fatto e stava dentro un pochino la sua cosa, quindi insomma ci sono state dei ragazzi, a volte i compagni sono i migliori psicologi. Ci sono dei problemi che possono essere importanti, sia in questo caso, ma in generale a livello stale quella della percezione di impotenza e della percezione di una parte di vita, quindi appunto la mia compagno della ragazza che aveva parlato del fatto che sia in generale, per prendere la propria vita, però anche il bello ci pare, sempre sento, sempre di più, magari lavorando la mia vita, però il problema è che ha fatto il possibile C'è questa impotenza, è importante non sentirti appartenenti a qualcosa, perché se è in grado, andrà, andrà, però è un tema molto importante, sia l'importenza che la non appartenenza, e se li unisci diventano esplodivi. In questa riflessione non stiamo attribuendo delle responsabilità, ma stiamo riflettendo su come possiamo lavorare su un sistema che diventi più capace di vedere e di riconoscere. Nel momento in cui abbiamo iniziato a parlare, a me mi sono iniziato a parlare, a me mi sono iniziato il capo di Erika Oma. Non lo ricordo bene. Ecco, quando praticamente io mi ricordo che c'è il capo di Erika Oma, è stato un coinvolgimento, nel senso, è stato l'animo caso di spraggio. E mi ricordo che mi ha colpito personalmente e ha colpito tutto il sistema culturale, sociale, perché è stata la fase di campo che mi ha dedicato sulla terra. Magari era praticamente unice, poteva accadere, però ancora cacioccoli e piccoli non se ne erano gentili tanti. In questo periodo, ok, mi capita, spesso che magari si arrivano le comunicazioni anche tra le cellulare, anche sulle televisioni, che altre strade che diventano, queste strade, queste tranceglie, come le vogliamo chiamare, sono ormai più consuette, ok? Diciamo che sono quasi diventate, come ha detto il direttore, che sono ormai diventate qualcosa di consueto. E quindi questa cosa un po' mi fa paura. Poi mi rendo conto che secondo me c'è una dualità importante, che è una, l'aspetto appunto, la considerazione dell'adolescente che commette questi reati. Dall'altra parte ci sono i genitori che investono sempre in angosciati rispetto al tipo di situazione che naturalmente devono mettere in atto o che possono mettere in atto nei confronti di questi figli, che sembra che a un certo punto eplodono. E non sai che cosa è di certo e che cosa dovrei fare, che l'hai fatto. C'è anche da dire sull'idea che ci stiamo abituando a questa, a quest'idea qui, che i numeri bisognerebbe sempre confrontarli, no? E avere sempre, come dire, abbastanza informazioni, eccetera. Sembra che ci stiamo abituando all'idea che nella famiglia moderna o nella famiglia ipermoderna, come dire, che genera solitudine, competitività, eccetera, eccetera, la violenza sia maggiore rispetto a quella di un tempo tradizionale, eccetera. E anche questa è una premessa che è tutta da dimostrare. No, a me viene in mente il concetto di amnesia. Cioè, siccome a mio avviso l'essere umano è buono, infatti questo qualche arrocao. Non guardare nemmeno. No, no, guardare nemmeno, sarebbe stato del liceo. Però c'è qualcosa che abbiamo perso, no? C'è qualcosa che risiede ancora dentro ma che dobbiamo recuperare. Quindi, che cosa in tutto questo sistema abbiamo dimenticato? L'abbiamo perso il sociale. Abbiamo perso totalmente l'attenzione al sociale. E la, come dire, la solidarietà nel sociale. Questo l'abbiamo perso. Mi viene in mente, non so, abbiamo con il mio figlio sei anni, va, sto andando a una manifestazione che mi vista e dice mamma, tanto non cambia niente. Forse ne aveva sette gli anni. Ma tanto non cambia niente. Cioè, il sociale ci sovraffa, non è bottom up, ma è top down. È qualcosa che ci... Pensiamo a tutti gli scaldali, a tutte le soldi che non gestiamo noi. Noi viviamo in una, in uno stato del terrore, in qualche modo. Ma non è il fatto che abbiamo perso i sociali, sicuramente. E secondo me, però, abbiamo reso sociale anche le individuali. Perché guardando i giovani, io non sono figli, guardo di altri, si cerca di adeguare anche i figli a un'idea di società, sempre più interante, quindi di prestazioni, di risultati, quindi dalla scuola, mille lingue, eccetera, eccetera. E forse si perde l'indigualità del singolo, perché magari, chissà, quando arriva nella testa questa persona, che a me, dal poco più letto, da quello che abbiamo detto anche oggi, questo sogno, diciamo, grandioso che aderiva, mi fa pensare un po' a una psicosi bianca, latente, che poteva rimanere latente, magari come tanti altri ce l'hanno, però a causa poi del periodo, cioè che stiamo vivendo e tutto quanto, allora c'è facile l'atto, diciamo, latiale. Però magari perché ci siamo abituati meno ad ascoltare, appunto, in queste poste, comunque, un po' con l'ingiardi, silenzi, quello che non si vede, quello che non si vede. Io ho visto una ventina di serie, io sono una maniaca delle serie, per scrivere il libro Primi Amori, ho visto più di una ventina di serie degli adolescenti, quelle che vedono dai 16 ai 26 anni. E la cosa che mi sono divertita da morire, era perché potevo vedere il flash senza sentirmi in colpa, era, era meraviglioso. Ma la cosa che mi ha impressionato era l'immagine che in queste serie veniva dato degli adulti. Gli adulti erano sempre distanti, sempre altrove, più bambini dei bambini, occupati a occuparsi del loro cuore, delle loro storie d'amore, in sensi di colpa verso i figli, e i figli volevano che gli adulti gli riempissero il titolo di tre e gli lasciassero la casa vuota per stare tra ragazzi e rimani. Mi ha impressionato, perché non c'è una serie tra le 20 e più che ho visto in cui c'era un rapporto buono tra un genitore e un figlio. Allora, perché lo fanno? Perché è così? O per rassicurare i ragazzi che la loro famiglia è nevito? Magari. Però non c'era una relazione di dire di ascolto reciproco o di momenti di tranquillità. E questa visione degli adulti viene passata con la voce, distanzialmente. per cui c'è anche una perdita di fiducia nell'adulto. Giungo anch'io una piccola cosa, perché Tony Petro, sono tutti adolescenti, ma dobbiamo avere attenzione a tutte le famiglie che ascoltano tutte le notizie dove ci sono. Come gli adolescenti non sono tutti disfunzionanti, anche le famiglie non sono tutte così come viene rappresentato. Forse, e Tony Petro è quello, io mi sto interrogando, mi piaceva interrogare, mi piace fare progetti, mi piace pensare degli strumenti, uscire dalla stanza di terapia, io sono un psicologo di emergenza, sono abituato a uscire dalla stanza di terapia e guardare le persone prima possibilmente che arrivino. Ricordare ci sono anche delle famiglie che funzionano. A volte dobbiamo fare attenzione che la non comunicazione, la non attenzione, la non formazione mandano le famiglie in confusione e non sanno più se stanno facendo bene, se stanno facendo male, come si devono relazionare, se quello veramente devo stare attento perché divento pericoloso. e forse dobbiamo un po' interrogarci su questo. Sono d'accordo con Umberta, le famiglie funzionanti non emergono e non compaiono, ma ci sono. Ma come mi viene a dire come sono fatte? Non è la famiglia per bene, siamo tutti per bene. Nessuno, non c'è il non per bene o altro. Perché il disagio non vuol dire non essere per bene, soffrire non vuol dire non essere per bene e poi il modo in cui si manifesta la sofferenza. quindi torno a ripetere, lancio un po' l'investimento ad assumerci la responsabilità di provare non solo a dire che la società non funziona, ma cosa noi che ci occupiamo del benessere delle persone possiamo fare di diverso, inventare gli strumenti nuovi, delle modalità nuove, di essere vicini al sociale per promuovere il benessere. Io lancio un po' questa provocazione. Ma a me viene d'aggiungere e concludendo che sono totalmente d'accordo. Anch'io e a proposito di adolescenza esistono gli adolescenti che superano l'adolescenza e l'adolescenza non è sempre non è affatto dall'età più critica, eccetera. Io conosco molti senescenti che hanno una senescenza critica più che un'adolescenza critica. un vissuto semmai una buona adolescenza, eccetera. Quindi anche rispetto a questa stigmatizzazione di questa età della vita, no? E così come mi viene in mente un vecchio articolo di Gabriella Caspari poi che scriveva un po' di anni fa che fino a parte la famiglia tradizionale non esiste la famiglia tradizionale. Allora faccia qua. Ecco non esiste la famiglia tradizionale non esistono in famiglie perfette noi come terapeuti diciamo abbiamo un po' il difetto di vedere solamente per così dire famiglie che non funzionano ma sappiamo straordinariamente poco sulle famiglie di quelle che funzionano perché non arrivano da noi di quelle famiglie che appunto che oscillano tra momenti di funzionamento e non funzionamento eccetera tra fasi di crisi gestione della crisi di conflitti e di ricomposizione tra figli che spattano qualche cosa o anche i genitori che si assentano rientrano eccetera ecco che questo stare insieme questa insomma in fondo ecco quello che diceva che dicevano i nostri maestri è che le famiglie sono fatte da tante persone che noi non dobbiamo mai pensare a una famiglia come un modello di statuine la famiglia è un insieme di pluralità di esseri viventi che hanno momenti diversi e quindi fare della differenza no o il valore più interessante più comune eccetera forse ecco rispetto ai social eccetera bisogna dire che i social probabilmente hanno un po' isolato queste differenze le monopolizzano eccetera eccetera